Oh Sant'Antonio, venga per me, oh Dio Sant'Antonio Da domani la frazione di Prisdarello nel comune di Gioio Saionica si animerà per la 22esima edizione dei festeggiamenti in onore di Sant'Antonio da Padova. L'evento, che proseguirà nei giorni 12 e 13, promette di trasformare Prisdarello in un vivace centro di cultura, fede e tradizione. Il programma della festa è ricco e variegato coinvolgendo diverse associazioni, singoli individui e l'intera comunità. Attività religiose, spettacoli musicali, giochi per bambini e stand gastronomici animeranno le giornate offrendo un'opportunità unica di socializzazione e condivisione per tutti i partecipanti. Maurizio Parrelli, presidente del comitato organizzatore, ha sottolineato l'importanza della festa in un'intervista conclusiva ed esclusiva. Il successo della manifestazione, ha aggiunto il presidente, è reso possibile grazie al fondamentale contributo della comunità e degli sponsor locali. Con l'auspicio che anche questa edizione possa registrare una grande partecipazione e regalare momenti indimenticabili, Prisdarello si prepara ad accogliere residenti e visitatori in un'atmosfera di gioia e condivisione. Siamo qui per parlare dei festeggiamenti di Sant'Antonio di Padova a Prisdarello, che fino all'anno scorso si teneva la prima domenica di agosto. Ora ci troviamo a fare la festa 11, 12 e 13 giugno. Parliamo dei festeggiamenti in onore di Sant'Antonio di Padova. Lunedì 3 giugno è stata esposta la statua del Santo Patrono. Martedì 4 giugno alle ore 18 è iniziata la novena. Martedì 11 giugno si terrà la Santa Messa, che sarà preceduta da una celebrazione penitenziaria. Giovedì 13 alle ore 18 si terrà la Santa Messa, cui seguirà la processione, accompagnata dal complesso bandistico Gioacchino Rossini di Gioiosa Ionica. Per quanto riguarda invece il programma civile, martedì 11 giugno alle ore 20 e 30 ci sarà l'evento Pasta con la carne di capra, che si terrà sotto al piazzale dove saranno svolti i festeggiamenti in onore di Sant'Antonio di Padova. Mercoledì 12 giugno nel pomeriggio ci saranno i giganti di Taurianova, che sfileranno nella nostra contrada di Prisdarello. Alle ore 19 ci sarà l'intrattenimento dei bambini. Facciamo il gioco delle pignate. Alle ore 20 si terrà il terzo Memorial Mimmo Calvi, con il torneo di briscola che seguirà e a seguire ci sarà una zeppolata. Giovedì 13 giugno si esibirà come artista di apertura al concerto Domenico Agostino. Seguirà l'esibizione del cantante Cece Barretta. La serata si concluderà con l'estrazione della riffa e con lo spettacolo pirotecnico della ditta Argirò. Come chiusura dei festeggiamenti. Dopo aver esposto tutto il programma, sia religioso che civile, vorrei ringraziare in particolare tutti i giovani, sia per la pulizia di tutto il territorio di Prisdarello, dove si esibirà la precessione dove passa Sant'Antonio da Padova, e voglio ringraziare il nostro parroco Giuseppe Campisani. Voglio ringraziare pure tutte le signore che si sono impegnate per la pulizia della Chiesa, ed infine tutti gli sponsor che hanno partecipato per la realizzazione dei festeggiamenti. Vi aspetto numerosi e buona festa a tutti!